Ciao ragazzi, sono Alex qui, voglio dire una cosa sul canale YouTube, questo canale, perché più e più li ho commenti sulle serie, le serie dedicati ai maestri, molte volte mi dicono che questo non è una fotografia di strada, è una buona fotografia, ma non è una fotografia di strada. Prima di tutto voglio dire una cosa, per me è più importante l'esperienza dei fotografi strada, decidendo, secondo le parole di Joel Meyerowitz, quando ha detto che ci sono due tipi di fotografi, le persone che chiedono di andare in un studio e le altre per andare nelle strade. Quindi credo che con questo focus, per me non è importante essere parte della fotografia strada, o se una foto è una fotografia strada. Con questo spirito, vengo fuori sulla strada. A volte posso fare portratti strada, a volte... e voglio dire, con le persone che sono aware che sto facendo una foto di loro, perché mi chiedo permesso. non voglio essere confinato in un label, quindi credo che è più importante essere un fotografia strada. Per essere un fotografia strada significa che preferisco andare fuori sulla strada, che restano in studio. Con questo detto, credo che il spirito della serie dedicata ai maestri è esattamente quello che sto dicendo nella descrizione della serie. E voglio leggere a te una serie che vuole celebrare i maestri di fotografia, i maestri di fotografia, non la strada, i maestri di fotografia, e rispondono fotografi di tutto il mondo. Non credo che tutti i fotografi strada in questa serie sono fotografi strada, ma credo che la loro fotografia sia in qualche modo una referenza per i fotografi strada, creato da Alex Koghe. quindi credo che a volte molti di persone vogliono definire cosa è la strada di fotografia, e tutti i debati che non sono interessati a inserire, perché io inseguro, io sono un fotocoach, io conosco perfetto cosa è la strada di fotografia, dove possiamo parlare della snapshot estetica, per esempio, che non vedo molte volte in tantissimi fotografi strada che sono ashtaggati come fotografi strada, ma non sono. non sono. Io conosco, per esempio, che in TikTok ci sono fotografi, e anche in YouTube, perché quando si postano su YouTube o TikTok, si postano ovunque. con i fotografi facendo fotografi strada, io sono un fotografo strada, posso prendere una foto di te? e le foto sono con il bokeh, il portretto classico, il portretto commerciale, come un portretto con l'applicazione académica. E penso che in questo modo puoi vedere come qualcuno non è un fotografo strada, perché per essere un fotografo strada dovresti avere una notizia, un'idea della snapshot estetica, della storia di fotografia strada, ma se ti chiedi se è un fotografo strada perché la maggior parte delle foto che ha fatto erano portretti stagate parlando con i soggetti. È Stephen Shore un fotografo strada? È molto di fotografia urbana urbana e posso fare molti esempi di fotografi che sono acclamati come fotografi strada quando in i principali della super candidata spontanea fotografia non. È Jamel Shabazz che amo molto il lavoro è Jamel Shabazz un fotografo strada? Ovviamente è si definisce un fotografo strada ma la maggior parte fa portratti strada 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 parlare con le persone fa portratti quindi è un fotografo o non è Ricky Powell un fotografo strada? Hai guardato il film di Cheryl Dunn? Personalmente ho visto molti volte il film anche ho dato una conferenza in una delle università più prestigiosi in Mexico e ho totalmente apprezzato l'approccio di questo documentario perché in questo documentario non c'è solo un modo di lasciare la strada come fotografo quindi penso che questo è importante ad esempio Paul E.B. fa una serie dove ci sono diversi successi e ci sono diversi approcci diversi approcci sulla strada l'ultimo video che ha pubblicato era con un fotografo con un fotografo un luogo urbano in black and white che è diversa da la fotografia classica quindi non è un fotografo ovviamente è come Jamesa Bass che ha fatto molti di fotografi che sono un fotografo portretto per lavorare sulle strade è Dianne Arbus un fotografo non classico ma Dianne Arbus con l'exhibizione con Lee Friedlander e Gary Winogrand in 60's creato e curato da John Sarkovsky ha fatto una parte molto importante per la cristallizzazione della fotografia scelta di Dianne Arbus stagione portretti 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 Tremont Newton per esempio perché uno dei commenti che ho ricevuto era che circa 98% della fotografia in questo video non è strade fotografia ma non strade fotografia e strade sono scritto libri sulle fotografie e vedo perfetto cosa è la fotografia non ho bisogno di pensare cosa è la fotografia non ho interessato in questa storia che viene dall'era di internet prima l'era Instagram non ho bisogno questo ho bisogno di dare inspirazione a altri fotografi che principalmente sono suscritti di fotografia sono fotografi ma penso che il lavoro di Helmut Newton ha fatto molti fotografi sono fotografi ma può essere un'ispirazione perché l'opera era andare fuori e fare una foto non importa se è fotografia la fotografia può essere un'ispirazione come per me è questo tipo di fotografia il lavoro magistrato di Helmut Newton quindi voglio altri fotografi guardare la fotografia senza libri per essere ispirato poi c'è il lavoro la strada non pensare ok devo fare fotografia strada perché sono strada è importante mostrarvi la tua visione non le cose che le persone aspettano non aspettano perché fai un label su la fotografia non vado senza pensare su un label ovviamente la mia natura è fare foto la maggior parte ma non è solo così credo che sia molto importante questo aspetto mi consiglio leggere la descrizione della serie perché in mia opinion per postare maestri che possono essere ispirati per altri fotografi è il focus principale di questa serie sul channel street di fotografia credo che ora ho chiarito il mio punto con questo video spero che molte persone stanno spiegando spiegando copia questa serie ora quindi è ok è ok è ok street masters ho visto una serie fatta dall'italiano che è il mio contatto stanno facendo qualcosa che ho iniziato un anno fa e è perfetto bene questo perché necessitiamo più ispirazione per i fotografi su youtube ho detto che necessitiamo più fotografi a youtube perché c'è molto misurazione e anche un lack di cultura visuale quindi qualcuno fa un lavoro con il suo viso e non solo le 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 che in un modo facile potresti ottenere molte visualizzazioni, ma è importante anche condividere la cultura visuale, perché molte persone stanno facendo foto senza avere un senso reale di cosa è la fotografia, come fare la fotografia, come ottenere la vostra fotografia personale, questo è molto importante, la maggior parte dei fotografi non sono fotografi, non stanno mostrando la loro visione, solo seguendo i trend, i trend visuali, e lo stanno facendo, che sono un po' critico di questo tipo di foto, quindi, ragazzi, spero che ho chiarificato il mio punto di vista sulle mie serie, quindi, restate con il canale, il canale di fotografia, vedremo presto con altri video, stiamo rockando con questo canale, sono già un partner di YouTube, e il miglior è ancora arrivato, posso assurdo che questo canale crescerà, grazie al vostro supporto. Grazie a tutti, vedremo presto, ciao! Ciao!